per due ore che la miravo con la testa di me allora certo censor che se la cava di cecchino gli altri non li ho mai visti hai sentito come mi ha sparato le dual? ha scatti ha fatto tutto è un buon segno raga ma non c'è nessuno che copre le bombe parcheggi lo so te l'ho detto che se la cava di cecchino tu ci va eh set max buono strano non avrei mai detto merda non è cresso vediamo facciamo rivedere cosa sono i sei set funzioni ma che set noi siamo poveri senti qua cosa ti vede con fu o speed che sei set? oddio Che coglione Che si fa che si fumano le persone Fidati sto mirando Sarà un po' un millimetro Che cazzo è? Utile se il tuo mouse Chiamalo TR È un cannoneato del TR Che cazzo è andato sto figlio di qua? Mi ha scritto Alex Sì, sì, è di qua Christian Che cazzo? Ma chi è qui? Ma mi ha rispato un uomo Mi ha rotto Mi ha distrutto, dilanato Ah, è stata una buona idea Eh, non l'ho vista Ma come? Ah, è questo No, è questo Questo è un uomo, scusa Sparava veloce e bassa Io boh Bisogna avesse sto maxi, vedite Bisogna anche saperlo usare Oltre che averlo Ok Datemi il pompone Bastardo, schifoso Uno arriva dal tank Tranquillo, dov'è? Eh, boh, era lì Mi sai che però uno arriva anche ai parcheggi Dio, ho sbagliato Eh, ho cappellato L'ho lisciato L'ultimo? Qui, ufficio, ufficio Ufficio, raga È distrutta, distrutta, unità, unità Ho un inca Eh, perché? Eh, perché? Ma c'è che cazzo Vai Cush, tu di qua, Cristian di là Purica non c'è su Eh, ma spara troppo lento sto cazzo di Max, uh Beh, oddio Eh, io voglio il classico, così e quando è così voglio il classico Ah, adesso arriva da te E nemmeno l'assist mi da, bene Thank you No, non esiste che mi porto sto coso Non mi devo portare il classico quando faccio cibo Adesso la lascio non mi so, eh Eh, appunto, sì Mamma Stupenda Eh, eh Da casa mia Da dove? Ti vedi da casa mia Mannaglia santo, ma che cazzo di lingua, eh? Sì, ma quando cazzo ricarica... Sì, ma quando cazzo ricarica... Ma... Ricarica troppo lento Poi il mio set Max Arriva! Ma dove? Arriva, arriva! Sto facendo il bug di santa Cazzo è il bug di santa Ma... 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 Mi ha shotato È un hit però Ma. Z спасибо Ebook Ma... è di là merda che palle ho 8-7 di merda quel cazzo fai a buttare 75 euro nel cesso così arriva ti entro di là, inizio di là sta venendo a sinistra sta venendo a sinistra fermo fermo ce l'ho a destra esci 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 ha corso come un maiale vieni qui Cristiano Cristiano vieni a 10 tipo facciamo una cosa ora ci scappiamo tutta la partita tutte le round è qua a destra ti dirò là, dimmi sempre se là basta che lo teniamo d'occhio da qua è qui all'angolo è sempre che ci scappiamo è uscito no è uscito ma allora ah ok comunque vedi che tipo sul muro che sta per uscire ma Cristiano sta rilevando i TTS che si la te la vede vabbè ti ho detto eccolo bellissimo 7-1 bello Cristiano ando forte bello mi piace toccaro a me ucciso subito un po' di un altro colcetto di merda bello Cristiano ando forte uff niente ok oddio vostro grazie che poi tra l'altro fosse normale dico vabbè è normale no è bucato dai 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 che arrivano col soletto è qua è distrutto peccato non è morto uno è nello dei parcheggi e uno è più officio uno ha già sprecato tipo tre quarti di hide perchè l'ho dilaniato ma negli hide oh non lo so credo di sì uno ma su bellissima quella vai al tank vai al tank cazzo è dentro il tank e l'altro è abbastanza cellulia da tutta uno che mi pare la censura uno qui al tank uno che ha il veletto uno che ha il veletto fermo fermo schienzelo dentro gli uffici non c'è bella 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 questo me l'hai rubato è assist guarda che roba ma che cazzare ma che cazzare di p90 si ho il tnr certo gioco così ma perché sporo ti coglioni arriva gris è una quadra due quadra ma ragazzi arrivo dai Gesù Cristo incrocia HS è la Stefano bellissimo eh oh ragazzi non ci va è morto è l'altro nitri shot ma li tovano un secondo stavo prendendo il mazzurro cazzo mi ha tankerato mi ha tankerato aspetta eh sì che culo ma ho 100 hp guarda 100 hp 100 hp non hai perso un cazzo eh quel cazzo di prigionare stai tendo al tanker eh stai tendo al tanker stai tendo al tanker stai tendo al tanker stai tendo al tanker bella bella ti ho detto che l'avevo colpito eh mi stavo scavando l'orecchio porco di vado a curare dove cazzo vai così eh cristiano copri i parcheggi dammi il cambio eh dammi il cambio c'è un tizio là quanti sono? due? no guarda merda va capata che culo che aveva il c... che ha il fucile a... che ha il fucile a... che ha il fucile a... che ha il fucile a pompa in mano è dentro in base l'ho preso l'ho preso ma l'ho preso l'hai visto? bellissimo ora col set max ti ha tolto ha una bella mira con due colpi ti ha tolto 17 ma l'ho preso mamma mia ho calta anche cri basta prendere anche trova io si tranquillo me lo guardo allora 5 4 9 3 12 3 12 13 9 4 13 5 kg sopra siamo vabbè anche se ti killano dopo dobbiamo fare una kill e the win tante kill siamo scusavate siamo 5 kg allora sì ma 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 un altro set max questo è un altro set max ma tanto è lento è più cristian è lento la metà di te questo vorrei capire dov'è fa lì il giro dagli uffici così si becca la torretta si ma dai ma non si può giocare così cioè io il max mi vergogno davvero il max se non so che mi vergogno è uno shotgun si vabbè ma non è una shotgun normale toglie 90 da un metro è perché prima l'M4 super 90 come era bombo si ma sparava più lento comunque l'M4 il danno ecco quello più o meno ma l'M4 spara anche meno gittata l'M4 è scopparso ragazzi non so e vabbè mancano 5 secondi il danno diminuisce tanto di più al max ma lo capito dov'è è scopparso nel muro sì ma adesso ho capito perchè volevano giocare non ho mai giocato contro di noi mai 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 non è scopparso il cappa di player ma forse se cercassi di prendersi la win io caro lo riesce a togliare la te luce oh è entrato eh mi spiace eeeh eeeh da dietro da dietro da dietro bravo dietro oh cazzo non sono delle sege non so niente usare che scazzi cazzo cazzo altra stia in base no merda L'aspetto col max Bombo scatenato Se non mi fai testa che gusto c'è E' come me